Io ho parlato già un paio di volte con il Presidente Gianni, ci siamo confrontati, io ho detto semplicemente quello che ho già comunicato pubblicamente. Io penso che Prato sia assolutamente sottorappresentata all'interno del Consiglio regionale, non è colpa di nessuno, la legge è così, per carità di Dio, non lamentiamoci, di solito riuscivamo a tenere fra maggioranza e posizione due consiglieri, l'ultima legislatura erano due consiglieri maggioranza, stavolta è andata in questo modo. Io penso che Prato, non solo per questo, ma anche e soprattutto vorrei dire, perché è la seconda città della Toscana, perché è distretto di essere più importante d'Europa, perché il PD ha avuto il secondo risultato migliore della Toscana, insomma per una serie di motivi importanti, perché abbiamo accompagnato sia nel momento d'apertura che in quello di chiusura la campagna elettorale del Presidente Gianni, credo che la città di Prato possa e debba essere rappresentata nella città regionale. Poi ovviamente aspetta anche il Presidente per fare le sue valutazioni, abbiamo dei nomi assolutamente di grandissimo rilievo, con tratti distintivi e competenze anche diverse fra di loro, quindi il Presidente Gianni ha una platea di riferimento importante, poi lui farà le sue valutazioni, che ovviamente rispetteremo, perché come dire, dava fastidio a me, immagina di fastidio anche a lui, a tutti, in posizioni di vario genere, però, diciamo, nella rosa che noi presentiamo, nei nomi che noi presentiamo, siamo assolutamente garantiti che sarebbe una scelta di qualità. Cioè oltre a ciò, quali altri nomi? Consigliari uscenti, sicuramente, poi non so se il Presidente Gianni ha in testa altre idee, però Ilaria per un verso, Nicola per l'altro, sono assolutamente altri nomi di grandissima qualità, e di grandissima robustezza dal punto di vista sia amministrativo che politico. Poi, non so, se il Presidente Gianni mi dite qualcos'altro, non avrei idea, io a lui chiedo di tenere in considerazione la città di Prato, una rappresentanza pratese per la giunta regionale.